Ha avuto un ottimo riscontro ieri in città l'osservanza dell'ordinanza fatta dal Presidente della Regione Nello Musumeci qualche giorno fa, che vietava l'attività all'aperto, prevedeva la chiusura degli alimentari nel giorno della domenica, aperti solo le edicole, vietato anche l'ingresso dei venditori ambulanti provenienti da altri comuni, aperti solo le farmacie di turno per Musumeci la domenica e nelle tabaccherie è vietato anche l'uso degli apparecchi da gioco, le uscite dalla propria abitazione vanno fatte solo per acquisti essenziali e limitati per una volta sola, annunciato anche l'arrivo dell'esercito per effettuare i controlli, grazie a questa ordinanza abbiamo così potuto vedere il piazzale Asser a San Leone completamente deserto, luogo che solitamente rappresenta il clou della vita sociale in città, specialmente la domenica. anche il popoloso quartiere commerciale villaggio Mosè è rimasto completamente deserto, le sue strade senza l'ombra di una macchina e di gente visto che i supermercati sono chiusi, intanto ieri domenica abbiamo potuto vedere il nuovo assalto che c'è stato nei traghetti gente arrivata da tutte le parti d'Italia e anche dall'estero per arrivare in Sicilia con il rischio di vanificare i tanti sforzi fatti dai siciliani di restare a casa e che probabilmente tutta questa gente porterebbe come è stato nello scorso metà marzo il coronavirus. E sempre in tema di coronavirus Musumeci propone 30 milioni da parte dell'IRFIS per liquidità alle imprese Musumeci afferma creare nuova e immediata liquidità a sostegno delle imprese siciliane quasi al collasso con questo obiettivo il governo Musumeci ha deciso di mettere a disposizione 30 milioni di euro come contributo sugli oneri per gli interessi e le spese di struttoria. Per i finanziamenti un meccanismo che attraverso il fondo Sicilia verrà gestito dall'IRFIS, la banca controllata dalla regione in sinergia con tutti gli altri istituti bancari dell'isola consentirà di mettere 600 milioni di euro di liquidità per le aziende siciliane. Le misure finanziarie predisposte dal governo nazionale, sottolinea il presidente della regione Musumeci non sono sufficienti a sostenere l'impresa in questo momento di emergenza sanitaria che purtroppo è diventata inevitabilmente anche emergenza economica riteniamo quindi di dover intervenire energicamente insieme al sistema bancario aspichiamo che in questo modo si possono avere immediati benefici le banche isolane sono chiamate quindi ad affiancare il governo regionale in questa azione di sossegno finanziario ciascuna azienda potrà chiedere un credito di esercizio per un importo massimo di 100.000 euro per un periodo di 15 mesi di cui almeno 3 di preammortamento